Hey guys, benvenuti sul canale di Diamantola Brothers Io sono Jonathan ed eccoci qui ragazzi ritornati in un altro post partita Porca miseria, porca miseria Ma che cacchio di partita assurdo ragazzi abbiamo visto Siamo qui per il post partita di Napoli-Roma Sembrava una partita ragazzi di FIFA 19 Una partita scriptata al massimo Cioè il Napoli è stato per l'85% in attacco della Roma In attacco, sempre in attacco E ci riprovo, e ci riprovo, e crossa in mezzo, e ci riprovo E calcio d'angolo, e ci riprovo, e ritiro, e ci riprovo Questa è stata tutta la partita ragazzi E porca miseria ci è entrato un solo pallone dentro E un po' pure ammazzo, cioè a fortuna porca miseria Il loro gol, che cavolo di gol hanno fatto? Mi devo dire che cavolo di gol è quello? Rimpallo, destra, sinistra, dai Ma dai, ma come si fa? Come si fa? Partita meritata, dovevamo meritare la vittoria ragazzi Ci è andato così il pareggio Siamo stati pure fortunati, perché questa poteva essere una sconfitta Ma vi rendete conto se perdevamo stasera? Non c'era proprio verso di riuscire a buttare il pallone dentro stasera Ma non so perché Se c'era il momentum Se EA Sports era sponsorizzato questa partita Fatemi sapere voi nei commenti Se così secondo voi il Napoli meritava la vittoria O è stato giusto il pareggio Per me meritava la vittoria il Napoli Se fosse stato rincontrato l'avrei detto Ma davvero il Napoli ha attaccato tutta la partita La Roma faceva qualche barlume Un po' di possesso palla Ma niente di che ragazzi alla fine Niente di che Il Napoli ha dominato tutta la partita Ha sprecato alcune occasioni Ha fatto due o tre gol Che erano fuori gioco di pochissimo E c'erano i fuori gioco C'erano però di pochissimo Quindi ci ha provato e riprovato e riprovato Ma niente è riuscito a fare un gol Che stava pure andando fuori Meno male che Mertens si è trovato lì Paff e te l'ha buttata dentro Cioè davvero il Napoli Nell'ultima partita è molto sfortunato Come si dice a Napoli Il Napoli sa da far battere A un prete di Chione Cioè si deve far batteggiare Da un prete gay il Napoli Perché è sfortunato E porca miseria E prendiamo gol all'ultimo minuto A due minuti dalla fine Contro il Paris Saint Germain Dopo una partita proprio stradominata Oggi questo tira e ritira Ci mancavano solo i pali e le traverse Era proprio FIFA 19 ragazzi Era FIFA 19 Il momentum è lo script Partita scriptata ragazzi Partita scriptata Come si dice su FIFA 19 Vabbè ripeto le stesse cose ragazzi Ma perché purtroppo sono arrabbiato Sono davvero arrabbiato Perché il Napoli Meritava la vittoria Ritorniamo a 6 punti dalla Juventus adesso Quindi è come se non fosse successo niente Nelle ultime due partite Ritorniamo come due partite fa Soltanto con due partite in più Sempre a 6 punti dalla Juventus di nuovo Ci eravamo avvicinati a 4 Ma ritorniamo a 6 Almeno è il pareggio ragazzi Ci rimane quel Quella Diciamo che potevamo avere Potevamo avere la sconfitta Almeno dice almeno Quel paese è andato in pareggio Anche se stavamo perdendo Appunto L'unica piccola Soddisfazione Altrimenti era proprio Dai che cavolo Vabbè ragazzi Questo era il post partita Purtroppo è andata così Il Napoli ha giocato tutti abbastanza bene Allan il solito mostro Che non si ferma un secondo Ma ormai Lo diciamo ogni partita Perché sembra una sorpresa Ma ormai Non lo è più Mertens mi è piaciuto tantissimo Quando è entrato Ha giocato davvero bene Milik pure ha giocato molto bene Però Un po' sotto tono Non riesce a sbloccarsi Ultimamente Speriamo possa sbloccarsi presto Il nostro Arkadius Insigne Sempre molto forte Pure Amsic Ultimamente mi sta piacendo molto di più Forse ha capito il ruolo Dove lo fa giocare Ancelotti Quindi mi sta convincendo di più Però purtroppo siamo sfortunati Ragazzi Il Napoli gioca bene Fa belle partite Tutto domina Però c'è C'è sempre Il calcio è così ragazzi Ci vuole pure quel pizzico Di fortuna Fatemi sapere voi nei commenti Ragazzi Lasciatemi un like Iscrivetevi Per non perdervi I prossimi post partita E tutti i video Che ci saranno sul canale Ragazzi Qualche giorno fa è uscita La parodia di Dazzone Andatevela a vedere ragazzi Perché È divertentissima Ve la consiglio E ci abbiamo messo Tanto impegno per farla Tutti i video sul canale Ragazzi Attivate la campanellina Perché ultimamente Youtube Non lancia le feed Da tutto a Youtube Sta avendo dei problemi Quindi mi raccomando Fate così Iscrivetevi Iscrivetevi Seguiteci Commentate Fatemi sapere il vostro parere Sulla partita Che condividiamo un po' Condividiamo il nostro pensiero Il vostro pensiero Ci confrontiamo un pochettino E discutiamo Come nel bar Quattro amici al bar Vabbè Sempre forza Napoli Ragazzi Che dirvi Da Jonathan Amentola Di Amentola Brothers Al prossimo video Ciao a io Ciao a io